Come pagare la licenza Unity Split con il saldo Smart Swapping? In questo tutorial ti mostreremo come pagare i pacchetti promozionali di licenze Unity Split con il saldo di swapping in SmartCoin. Puoi controllare il tuo saldo di swapping disponibile su plcswapping.com nel widget Swapping Smart Balance nella dashboard. Dunque, passiamo al pagamento del prodotto. Accedi al tuo sito web di DeFiU, seleziona la licenza che vuoi acquistare e clicca su Purchase. Si aprirà una finestra per la selezione del metodo di pagamento. Seleziona il metodo di pagamento Swapping Smart. Conferma di accettare i termini e le condizioni spuntando la casella e clicca sul pulsante Purchase. Acquista. Successivamente verrai reindirizzato alla pagina di accesso su Plain Passport. Inserisci il tuo nome utente e la password per accedere. Oppure conferma l'accesso dal tuo account se hai effettuato il login in precedenza. Verrai quindi indirizzato alla pagina di pagamento. Questa finestra mostrerà il numero dell'ordine, il timer del conto alla rovescia, l'importo in Smart e il tuo saldo attuale. Per completare il pagamento, clicca sul pulsante con la scritta Yeah, I want that. Attendi la notifica di pagamento. Fatto! Hai pagato con successo il prodotto utilizzando il tuo saldo Smart Swapping. Dopo aver effettuato il pagamento, vedrai che nella dashboard del sito PL Swapping il valore sul widget Swapping Smart Balance è diminuito. Ora devi attivare la tua licenza. Per farlo, vai nella sezione del menu My License, trova la licenza acquistata e clicca sul pulsante Activate. Se desideri visualizzare la cronologia delle attivazioni, vai alla scheda Activation History. Congratulazioni! Hai acquistato e attivato la tua licenza Unity Split. Nella dashboard, nel widget Total Unity Split Limit, vedrai che il tuo limite è split disponibile e aumentato. Se hai ancora delle domande, puoi sempre inviarle al nostro team di assistenza e saremo lieti di risponderti.